Ciao ragazzi io sono Wolf e oggi siamo tornati con la serie ufficiale di Titanfall 2 Oggi siamo nella missione nell'abisso, la nuovissima missione Chi non ha visto lo scorso episodio lo consiglio di andare a vedere Bello Abbiamo una nuova arma però io l'ho provata e non è potente Ok finalmente posso parlare dobbiamo uccidere un po' di persone Infatti qua io starò con lo scudo perché vedo che volano i razzi Io ci tengo a rimanere unita Tieni il ping Oh mio dio Oh mio dio Ok ragazzi li dobbiamo fare fuori tutti Papà potuti Ragazzi scusate ma mi fa male un pochino la cuore anche se siamo in estate ma col caldo e il freddo dentro casa poi sapete Vabbè insomma vi volevo dire se volete che io Se volete partecipare alle Skywars e alle Eggwars e così così basta sul nostro server ufficiale di Minecraft Basta richiedermi l'amicizia su PlayStation 4 Wolfgigi mi chiamo io Wolfair TH non ci sarà neanche Wolfair 2000 perché la PlayStation 4 gliela faranno a Natale quindi vedremo Poi cosa uscirà Oh my god Mamma mia che mira anche io Guarda viene uno schiaffo da dietro eh Adesso dove dobbiamo andare Ok Titan finalmente Mi mandava di uccidere sempre questi Vabbè senti ciao Tutututututu Distrutto Attenzione Un altro Titan Ok ragazzi scusate per questa piccolissima interruzione ma mi avevano suonato il campanello Quindi ho dovuto andare a rispondere perché sto per adesso sto da solo a casa Cioè ogni volta sto un'oretta Solo perché oggi ci sta il compleanno di un mio amico E quindi andrò da lui Non so se registrerò Halo Non lo so perché Lui è Halo quindi ci piace tanto giocarci perché le risate che ci facciamo ogni volta Che saliamo sulla Jeep uccidiamo tutti Poi si ribalta non lo so poi vedremo Se non c'è altra gente potrei farlo perché Ogni volta che faccio un video tutti Eh ma tu sei un youtuber Oh mio Dio Fammi apparire in un tuo video Sempre una sola Sempre la stessa cosa Soprattutto ora che ho il canale Soprattutto ora che ho il canale nuovo Oh my god E resta lì E da 3 minuti che sto combattendo questo Mamma mia 3 ore e mezza Eccola la nostra nuovissima arma Dove è Brut Lancia razzi Così così ma Beh allora Se non avete sentito Se non Beh Se non avete sentito BT avrà detto Di trovare Una scorciatoia E ciao signori Ah ragazzi Come potete vedere Ho cambiato pistola Perché Quella di prima Era un pochino debole Invece questa qua Guardate Boom E' un fucile a pompa In miniatura Sembra Adesso torniamo da BT Tutto è in tempo reale Oh mio Dio BT no 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 Ragazzi Piccolo riassuntino Siamo andati nell'abisso Adesso dovremo incontrarci Con BT Però noi non riusciamo A intercettarlo Quindi Possiamo proseguire Ecco Ecco Vado Uh Vedete questa pistola Quanto danno fa Me l'ha usata contro Adesso Boom Soltanto che io Gli vado vicino Gli stacco la testa In due parole Non Non fraintendetemi Qui Qui Adesso Facciamo Una specie di parkour Cooper Se mi senti Mi stanno portando Nella sottostrazione Ok ragazzi Finalmente Ho preso il casco Non potete capire Quanti fail ho fatto Gli ho dovuto tagliare tutto Perché Sarebbe uscito 70 minuti di video Solo per quel casco Sarebbero usciti eh Eh Non capivo dove andare Poi vedevo che c'era Un piccolo tubo Che mi portava là Ui Che carini Adesso dobbiamo entrare qua Comunque Ma che Ragazzi Questo episodio In verità sarebbero Due episodi insieme Perché questo Questo livello È diviso in due parti Ma dove vado E' andato parco giotti Non ti prego Per essere intelligente Il proceduto Non è necessario Per chiudere Amen Wihi Eccoci Noo Che Ragazzi Avete presente Quando tu Insegui un treno Io per salire Su questa piattaforma Ho fatto la stessa Cosa Cosa Oh yeah Io ora sto sulla mia Contrancina Ragazzi Finalmente 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 Ci stiamo avvicinando Al finale Oh Oh mio dio Ragazzi Il video si conclude qui Spero che vi sia piaciuto E Noi ci vediamo Prasso Noi ci vediamo Da Voi Che Ciao 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 Ciao